eccoci qua salve a tutti amici e bentornati sul mio canale bentornati dal vostro gigioio ragazzi in questo primo mercoledì di settembre un mercoledì in cui naturalmente non ci sono notizie perché ragazzi perché la pausa della nazionale che sta onestamente smaronando tutti e sta ragazzi parliamoci chiaro è cascata davvero male questa pausa della nazionale che non ci voleva proprio nel momento in cui la stagione stava iniziando stava incominciando ad entrare nel video è arrivata questa pausa della nazionale però come ammazzare il tempo e come vendere qualche copia in più o in questo caso fare qualche click e qualche visualizzazione se non parlare male della juventus ed è tornato a farlo questa volta però ragazzi in un modo talmente prepotente da secondo me rischiare ampiamente la querela anche dalla parte da parte di una società che spesso è indolente e quasi impassibile davanti a queste questi vergognosi attacchi come la juventus parliamo di fabrizio corona che è tornato a parlare del caso doping è tornato a parlare della juventus l'ha fatto in termini molto aggressivi sappiamo che lui è un cartonato prescritto di merda visto e considerato che lui ci ha parlato così voglio rispondergli così cartonato prescritto di merda che è tra l'altro la verità e quindi e quindi ha attaccato la juventus in un modo talmente vergognoso ragazzi da meritare la querela ma ne parliamo insieme in questo video prima di tutto però ragazzi voglio like voglio la condivisione voglio iscrizione perché ragazzi tutti questi video tutti questi servizi che fanno contro informazione che tendono di far venire alla luce notizie che molto spesso sono occultate da chi fa informazione hanno bisogno di numeri hanno bisogno di numeri per essere diffuse per arrivare a più persone possibile per avere anche una valenza a livello di protesta sociale quindi cerchiamo di laicare iscriverci condividere e campanella delle notifiche per rimanere aggiornati in tempo reale su tutti i prossimi contenuti che andrò a produrre su questo canale detto questo amici miei cerchiamo di capire che cosa ha detto questo cartonato di merda perché io mi riferisco a lui e capirete il perché mi sto riferendo a lui in un tono così aggressivo perché ragazzi questa volta ha esagerato questa volta è andato davvero oltre perché già è un personaggio che sappiamo tutti ha un passato che voglio dire sarebbe da tenere a bada da tenere in silenzio sarebbe da evitare che parlasse in televisione perché voglio dire può essere tutto tranne che un esempio è uno che nella vita ha avuto precedenti penali si è fatto più giorni di carcere che giorni di libertà ha praticamente fatto di tutto nella vita ha ammesso l'uso di sostanze stupefacenti cioè ragazzi è proprio un personaggio di quelli su cui è inutile star lì a parlare e però invece lui parla sempre poi non avendo tra l'altro alcuna credibilità visto e considerato che l'anno scorso se ne uscì dicendo c'è mezza serie A e anche questa volta lo dice è uscito fuori solo la punta dell'iceberg perché tre quarti di serie A è coinvolta e invece non è uscito niente però lui poco più di un mese fa disse di conoscere anche dei nomi di giocatori dell'Inter ma che non li avrebbe mai fatti voi pensate che credibilità può avere un pezzo di sterco di tal Guisa e quindi e quindi continua a sparlare e a parlare di Juventus dicendo che la Juventus è vergognosa ragazzi vergognosa perché al festival di Venezia praticamente speculerà sulla ludopatia di fagioli presentando un film con Juventus Lab e quindi la Juventus che in realtà già sapeva già sapeva ha commesso reato a non denunciare fagioli alle autorità doveva lasciarlo senza stipendio cacciarlo fuori invece essere tenuto gli ha aumentato lo stipendio, ha fatto finta di niente perché quando andavano i creditori tutti i giorni nella sede della Juventus tutti i giorni la Juventus sapeva già tutto e ha fatto frode sportiva e reato facendo finta di niente detto questo in più sta speculando come detto doveva lasciare fagioli senza stipendi invece essere tenuto, gli ha rinnovato il contratto e gli ha anche aumentato lo stipendio e quindi ragazzi la Juventus doveva pagare e poi come mai queste cause non vanno avanti perché quando ci sono poteri forti in mezzo come la Juventus succede sempre così e conclude la frase dicendo gobbi di merda cioè rendiamoci conto ragazzi io pensavo che questo gobbi di merda potesse portare potesse portare ad un'azione legale da parte da parte della fondazione Identità Bianconera perché a mio modo di vedere gobbi di merda va ad offendere va ad offendere tutta la categoria di Juventini ma mi è stato assicurato invece che non ci sono i margini per la fondazione per poter agire mentre ci sarebbero naturalmente i margini sia da parte di Niccolò Fagioli che è stato pesantemente insultato a livello personale a cui tra l'altro è stato detto che gli avrebbe dovuto chiedere scusa a Corona perché Corona gli ha salvato la vita perché grazie a lui che si è scoperta la duopatia e grazie a lui che si è salvata e grazie a lui che adesso a Juve ci sta speculando insomma vuole pure i ringraziamenti questo pagliaccio davvero cioè questo qui dovrebbe stare in un circo e invece lo tengono così in libertà ragazzi gli danno il permesso di parlare e questi poi sono ragazzi è il brutto della democrazia ecco la democrazia è bella perché tutti quanti hanno la possibilità di parlare però poi ha la possibilità di parlare anche gente del genere che è senza scrupoli senza vergogna e senza limiti naturalmente e tra l'altro grazie alla stupidità di tanti di loro e ha anche seguito capite? e questo poi è diciamo una sorta di bug della democrazia ecco volendola usare con un termine informatico però ragazzi il problema fondamentale è che anche la Juve potrebbe fargli causa perché quando lui dice che la Juventus sapeva quando lui accusa la Juventus di aver commesso un reato grave sia a livello penale civile che a livello sportivo perché si parla sia di frode sportiva sia che la Juventus sapeva che questo qui facesse delle scommesse che erano tra l'altro illegali che quindi era coinvolto con la criminalità capite che la Juventus viene coinvolta in cose molto molto gravi e a me piacerebbe ragazzi che la Juventus che la Juventus gli facesse passare la voglia di sparare cazzate gli facesse passare la voglia di dire sproposti gli facesse passare la voglia di parlare senza cognizione di causa tanto lui sa che la Juventus voglio dire ha un atteggiamento di non curanza nei confronti suoi che si chiama Corona ma nei confronti della Juventus è un moscerino un moscerino neanche fastidioso la Juventus neanche se ne accorge della sua presenza però invece questa gente ragazzi va punita questa gente va zittita perché purtroppo se te zittisci un pagliaccio del genere probabilmente altri altri nella loro mente ci penseranno due volte prima di sparare sentenze prima di sparare a zero prima di parlare di Juventus prima di permettersi di fare false accuse nei confronti della Juventus perché è chiaro ed evidente che queste siano false accuse era chiaro anche l'anno scorso quando addirittura dimostrò di dire cazzate cioè i fatti lo smentirono non conosceva la cronologia parlava di un Fagioli escluso dalla tournée quando semplicemente Fagioli aveva un problema fisico perciò fu escluso dalla tournée non si trovavano i tempi della tournée lui parlava che Fagioli si era autodenunciato alla Juventus quando già la Juventus praticamente era in tournée ma non era stato portacetto la base ragazzi gli mancava proprio la base cioè neanche saper costruire una bugia fatta a modo ma del resto è il modus operandi degli interisti che gli interisti commettono illeciti senza neanche premurarsi di procurarsi una veste legale ormai li commettono la luce del giorno è Marotta ragazzi Marotta è maestri in questo Marotta ormai va con gli arbitri a spiegare il regolamento voglio dire il ladro che va con la polizia a spiegare la legalità è semplicemente questo poi quello che succede in questo paese dove veramente sembra girare tutto al contrario dove vale tutto il contrario di tutto e dove addirittura gente come Corona può permettersi di parlare di dare giudizi morali sugli altri e dire delle cretinate e di offendere un'intera tifoseria di offendere un'intera tifoseria perché quando tu dici gopi di merda offendi un'intera tifoseria caro cartonato prescritto di merda caro verme nero azzurro caro abusivo di questo campionato caro come dice il mio amico Sergio Vessicchio piaga sociale perché tu sei più di tutta l'Inter tu sei una vera piaga sociale anche a livello personale oltre a essere una piaga sociale in quanto interista tu sei una piaga sociale a livello personale e ha voglia di andare in carcere ha voglia di pagare i tuoi debiti con la legge tu non smetterai mai di delinquere perché tu la delinquenza ce l'hai dentro questo modo superandi di essere uno pseudo delinquente tu ce l'hai dentro poi non sei manco buono come delinquente perché sono più le volte che finisci dentro di quelle in cui ci guadagna qualche volta qualche uno si romperà i coglioni e ti farà passare la voglia di fare il fenomeno togliendoti dalla tasca questi quattro spiccioli che hai raccolto hai raccolto facendo cose illegali e soprattutto spesso e volentieri ricattando le persone e questi non sono illazioni mie come quelle che fai tu ma sono fatti fatti per cui tu sei stato condannato mio caro mio caro pagliaccio cartonato non so se ci siamo chiari sono stato chiaro se ci siamo chiariti perché quando sento questa gente che parla ragazzi davvero mi parte l'embolo mi sale mi sale la rabbia mi sale la rabbia nel sentire questi pagliacci dare poi dei giudizi di merito e addirittura addirittura dare esempio di vita poi intanto fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti massima condivisione di questo video fondamentale ragazzi fondamentale condividete a più non posso questo contenuto io vi ringrazio se siete arrivati fino a questo punto del video e fino alla fine contro tutte e tutti sempre e comunque forza Juventus è nel dubbio corona merda e inter merda che non guasta mai perché la vera merda d'Italia il vero disagio d'Italia la vera vergogna del calcio italiano siete soltanto voi caro cartonato prescritto caro cartonato prescritto grazie a tutti